Amici degli spettatori, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa quotidiana. Oggi è sabato, sabato 14 di novembre 2020, vediamo assieme le principali notizie, passiamo con il quotidiano che apre con il coronavirus, in Calabria calano i contagi ma crescono ancora ricoveri e terapie intensive e ci sono ancora sette vittime. Mentre il coronavirus in Calabria c'è una nuova ordinanza regionale per reclutare 300 tra medici e infermieri. Lì c'è il video del presidente facente funzionale di Nino Spirli ed ancora la sanità, Spirli pronto a chiudere le scuole e boccia l'ASP e anche i commissari. Andiamo ancora avanti, in Calabria il coronavirus è la regione che annuncia la consegna di quattro ospedali da campo, mentre sul fronte in Ranghe da latitante del Regino, provato in casolare nel Vibonese, è stato arrestato. Il suo nome era Domenico Bellocco, ancora a Catanzaro, personale pazienti positivi al coronavirus in alcuni reparti dell'ospedale pugliese ed ancora in evidenza in Calabria, quindi una nuova vittima di coronavirus, questa volta nel Vibonese. Ed è un 58enne di filo gaso, mentre accogli Calabria 11 milioni a fondo perduto per 238 strutture turistiche, ad ancora estorsioni a proprietari terrieri, quattro condanne contro la cosca Gallelli di Badolato. Bene, andiamo alla Galletta del Sud, che apre con i due occhielli a Rosarno preso a Mongiana Domenico Bellocco, latitante da circa un anno, mentre operazione Pollino, stangate le cosche della Locri, inflitti 411 anni di carcere. Il gruppo di leggeo ha condannato per associazione mafiosa e narcotrappico 34 imputati, le assoluzioni sono state invece otto. In queste immagini vediamo i procuratori Lombardo e Bombardieri. E poi passiamo anche qui al coronavirus, a tutta pagina, un'Italia rosso-arancio, ma c'è speranza, anche Campania e Toscana diventano zone a rischio elevato, salgono a nove le regioni in fascia media. Situazioni critiche negli ospedali, scende a 1,43 l'indice dei contagi di RT, ricordiamo che deve essere sotto dell'1% perché c'è sì l'allarme, è il primo segnale comunque di efficacia delle restrizioni. Quindi anche la Campania e la Toscana diventano regioni rosse di massima allerta per il Covid come Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, Alto Adice, con l'Emilia Romagna, Friuli e Marche che portano al 9 il titolo di totale dei territori arancioni quasi tutta Italia, oramai chiusa o semi-chiusa. Il verdetto della cabina di regia arriva sulla base dei dati dell'epidemia che cambia anche la geografia del lockdown morbido ma inesorabile che impedisce o rallenta mobilità, socialità, attività produttive. Restano invece gialle per il momento, solo il Lazio, il Veneto, il Molise, la Sardegna e Trento, il ministro della Salute Roberto Speranza finirà l'ordinanza e firmerà l'ordinanza, la già firmata che sarà in vigore. Da domani e ancora in Calabria, come abbiamo visto in altro giornale, verranno allestiti quattro ospedali da campo per l'emergenza, non solo a Cosenza ma anche a Crotone, Vibo e Locri, il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha confermato che a breve in Calabria verranno allestiti quattro ospedali da campo, vediamo nella foto struttura appena realizzata a Perugia, per la cura dei pazienti affetti da Covid-19. Le strutture saranno vigate non solo a Cosenza dove oggi è previsto un sopralluogo con la presenza di autorità militari ma anche a Crotone, Vibo e Locri una soluzione fondamentale per la decongestione degli ospedali e garantire l'adeguata assistenza. La cosa più strana è che ci sono gli ospedali chiusi, i completi ospedali vuoti in Calabria e invece di riempire quelli ci mettono le tende. Ancora, omissione ritardi, procura al lavoro, la Guardia di Finanza e i Carabinieri in azione a Catanzaro e Cosenza sotto la lente, la mancata attuazione dei piani Covid e l'ipotesi di epidemia colposa. Qui vediamo Nicola Gratteri, capo della procura di Catanzaro che sta coordinando le indagini a Catanzaro. E ancora dopo i posti attivati, 300 medici e infermieri reclutati dalla regione per l'assistenza ai malati di Covid in relazione alla dotazione complessa dei posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere. Intanto carano i contagi ma aumentano i ricoveri, otto vittime tra cui anche un medico di base di Catanzaro. Poi la bozza per il 2021, la maxima nuova è di 38 miliardi con gli aiuti alle famiglie. Vediamo Giuseppe Conte in questo riquadro, mentre in fondo alla pagina la Cina si concatola con il neopresidente degli Stati Uniti, Biden, USA, quindi Stati Uniti d'America 2020. Assolutamente nessuna prova di brogli, Biden che batte Trump per 306 a 232. Quindi da Washington le autorità elettorali degli Stati Uniti d'America hanno comunicato di non aver trovato alcuna prova di schede perse o modificate o di sistemi di voti violati. Ancora andiamo a una donna che per la prima volta guida di Locri, l'Università La Sapienza di Roma, è la nuova rettrice originaria di Locri, Orgoglio quindi per tutta la Calabria e Polimeni, insomma, che vediamo Antonella Polimeni che guiderà un atenevo di prestigio che ha 700 anni di storia. Andiamo agli occhielli, sulla prima pagina sempre della Gazzetta, Reggio di Calabria, il ventito cortese si abbatte sul clan Serraino. Tra le prime dichiarazioni del collaboratore Maurizio Cortese, le dinamiche del clan di Serraino, mentre sempre a Reggio la città trasformata in una enorme discarica a cielo aperto, tutti i quartieri sono inghiottici dalla spazzatura o raccolta da settimane che non viene effettuata, e molta spazzatura addirittura viene bruciata, quindi diventa un inferno. Ed ancora sempre a Reggio le tragicomiche elezioni comunali che finiscono su striscia la notizia, la celebre trasmissione satirica di Antonio Ricci ha messo alla berlina le elezioni comunali della città di Reggio di Calabria. Sempre a Reggio chiuse le scuole per due settimane, da lunedì aperte soltanto gli asili, quindi in assenza di interventi regionali, l'ordinanza è stata firmata ieri sera dal sindaco di Reggio Falcovatà che ha chiuso tutte le scuole ad eccezione degli asili e c'è alta tensione con l'ASP. Vediamoci la pagina di approfondimento sulla Gazzetta del Sud, vediamo che coronavirus, nuova ordinanza in vigore da domani, anche la Toscana e la Campania diventano aria rossa. De Luca, governatore della Campania, attacca le regioni in zona arancione, salgono a nove con Emilia Friuli, Venezia Giulia ed anche le Marche. Ieri sera, insomma, ieri il governatore della Campania ha detto, ha così attaccato violentamente con un video il governo, dicendo che questo non è un governo e che è meglio che vada a casa, è attaccato frontalmente anche non solo il governo ma il suo compaesano Gigino Di Maio. E poi criticità per l'aumento dei ricoveri, allarme dell'Istituto Superiore, ma intanto l'indice RT nazionale scende a 1,43, mentre gli indici di contagio in Calabria è 1,3 e Sicilia è 1,18. Ancora protocollo per le cure domiciliari, la bozza stilata dalla Commissione nazionale, evitare antibiotici ed evitare cortisone. Il paracetamolo viene indicato per sintomi febbrili, nel testo non consente che anche le diverse classificazioni della malattia sono contenute nel testo le diverse classificazioni di questa malattia, quindi arrivano le linee guida di indirizzo rivolte ai medici di famiglia per la cura dei pazienti Covid a casa. Nella bozza di protocollo, veste appunto dal gruppo di lavoro del Ministero della Salute, di cui hanno parto anche il Presidente del Consiglio Superiore, Franco Locatelli, altri membri del comitato tecnico-scientifico, vengono indicati, tra l'altro, i farmaci da utilizzare nelle terapie a domicilio. Il documento spiega, con le fonti del Ministero, ha come obiettivo la diminuzione della pressione sugli ospedali attraverso il monitoraggio e la gestione dei pazienti a domicilio, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. I medici di medicina generale, in collaborazione con le USCA, le unità speciali di continuità assistenziali, potranno seguire i pazienti Covid a domicilio, indicare i trattamenti farmacologici e monitorare a distanza alcuni parametri. Il paracetamolo viene indicato per i sintomi febbrili, gli antinfiammatori, se il quadro clinico del paziente Covid inizia ad aggravarsi, i costi sono solo in emergenza per evitare di aggredire il sistema immunitario del malato, nessun antireumatico né antibiotici, e parina per le persone che hanno difficoltà invece a muoversi. Ancora Zolina invece, ministro dell'istruzione, in classe dei ragazzi fino agli 11 anni, un flash mob di studenti in tutta Italia, torniamo nelle aule scolastiche armate di computer wifi davanti agli istituti dell'intera penisola. a Milano i ragazzi studiano per protesta sotto il palazzo della regione. Ancora andiamo a Roma, arriva la manovra da 38 miliardi, nodo ristori per le regioni chiusi, approvato salvointese il testo della Max Regge di Milagio. Pressing per gli incrementi degli indiannizi, si lavora al decreto ristoro TIR, tradotto in miliardi, sono 38, e da qui si ripartirà nel 2021, arriva quasi a un mese dal Consiglio dei Ministri, che l'ha approvato salvointese il testo della Max Regge di Milagio. Ma già non basta, si ragiona sul nuovo dicente spostamento, spostamento di Milagio, nel 2021, approvato probabilmente a dicembre. Intanto si prepara il decreto ristori TIR, il passaggio di Campania e Toscana dalle regioni rosse, e di Friuli, Emilia Romagna e Marche, tra le arancioni, porta con sé nuove chiusure e la necessità di aumentare i fondi finora stanziati. E magari, come chiede il Movimento 5 Stelle, è anche l'Anci di ampliare la portata. Dagli aumenti per i medici, quindi al fondo anti-Covid, ci sono 5 miliardi per la cassa integrazione guadagni, e per 4 anni sgravi, per i under 35 nel Meridione. In fondo alla pagina a Cosenza, 4 ospedali da campo per aiutare la Calabria, saranno montati tra Cosenza, Vimbo, Crotone e Locri. Oggi i primi sopralluoghi con il personale dell'esercito. Intanto Zuccatelli ricasca sulle mascherine, il manager nell'occhio del ciclone, al titolo quinto. Ieri sera è destinata quindi ad alimentare altre polemiche, la rongoscita di Giuseppe Zuccatelli, manager designato dal governo come commissario per la sanità calabrese. Ieri sera la trasmissione di Rai 3, titolo quinto, che la scorsa settimana aveva mandato in onda l'intervista, ha costato l'incarico al generale Saverio Cotticelli, che è tornato a occuparsi di Calabria, nel servizio emesso come Zuccatelli, pur negandosi al telefono, abbia inviato al giornalista, che lo cercava un messaggio WhatsApp, comprendente un link con un articolo nel quale si pubblicizza uno studio degli Stati Uniti d'America che sostiene che come le mascherine siano il mezzo per trasformare gli asintomatici positivi in malati, bisogno di cure ospedaliere. Quindi continuo a ricascarci questo soggetto. Lasciamo per un attimo la gazzetta, andiamo al messaggero, messaggero che apre con il Lazio, che resiste, brinda i confini, la capitale e altre province restano in zona gialla, controlli strade e anche nelle stazioni, stoppa i pendolari, Covid, Campanetto Scala diventano rosse, De Luca all'esecutivo, dimettetevi, altre regioni diventano arancioni. Poi ho paura, la paura da dominare la missione del governo sull'effetto pandemia. Un articolo di fondo di Luca Ricolfi molto interessante, il quale dice, credo che l'obiettivo di tutelare l'economia o meglio limitare i danni che l'epidemia determinerà sul sistema economico, siano tutti d'accordo, come credo che in materia di riapertura le differenze tra le forze politiche, siano semplici e sfumature. Un po' più attenta ad artigiani e commercianti, la destra un po' più attenta a scuola, università e cultura a sinistra. Ancora aumento di stipendi in medici e infermieri, rifinanziato il reddito, pronta la manovra operazione da 38 miliardi, c'è il bonus BB e altri 2 miliardi per i riscuori. Poi le nuove regole, condomini, si cambia l'assemblea online, niente più un'animità, mentre Antonella Polimeni dopo 717 anni da Roma a segnare per le studentesse, la sapienza è donna, la prima rettrice al vertice dell'Ateneo. Antonella Polimeni durante una cerimonia alla sapienza e di Reggio di Calabria. Mentre Dawn in aula con lei ispitando il virus, ha risietto niente di attica a distanza per non lasciare sola la compagna. Poi la maxitruppa, la madre della Marini, indagine su un attore broker, sottratti 330 mila euro. quindi lo avevano conosciuto come regista e attore cinematografico, poi aveva rivelato di essere anche un broker esperto di investimento online, proponeva fare in grado di fruttare in poco tempo molto denaro, in realtà secondo la procura era un imbroglio. Giuseppe Pirazza avrebbe raggirato la signora Gianna Orru, madre della Shogher Valeria Marini, che avrebbe convinto la donna di investire con lui più di 330 mila euro, soldi che si sarebbero letteralmente volatizzati. Bene, andiamo avanti, andiamo con la... purtroppo qui ci andiamo, vediamo un attimo, dice a spendere il caricamento, speriamo che il caricamento avviene, eccolo qua, la lotta alla pandemia, la campagna della Toscana, zona rossa, altre tre regioni, arancioni, all'Istituto Superiore della Sanità raccomanda non uscite di casa, qui vedete gli indici RT per tutta Italia, la Sardegna insomma è ancora all'1, mentre come vedete la Calabria è all'1,38 ecco in questo grafico. Poi il Lazio virtuoso è blindato, stop ai pendolari del Covid è l'unica grande regione e regione gialla, la vediamo in queste immagini, circondata con tutti i controlli sulle strade e anche nelle stazioni da tutti i territori arancioni, salvo i Molise, segnalato che arriva violando quindi la zona rossa, rischio Covid, misura regione per regione in questo articolo, in questo servizio. Poi ma la Sanità Lombarda, gallera sfiduciato, avanza l'ipotesi di un super commissario, quindi la Sanità Lombarda sta spaccando la maggioranza in regione, ieri un vertice di maggioranza iniziato con l'ipotesi di rimpasto sul tavolo, ma poi i partiti per sostenere il governatore Fontana hanno convenuto che no, in questo momento non ci si può muovere. Quindi Fontana prova a blindare il suo assessorato, ma il carroccio danneggia la nostra immagine. Poi le feste al tempo del coronavirus, vediamo i nonni e i nipoti, Natale insieme, come fare, il timore nelle case italiane di non poter celebrare insieme il 24 e 25 di dicembre. Moretti primario emerito dell'Umberto I dice meglio vedesse all'averto i bimbi capiranno, quindi veramente quest'anno non si può stare eppure con i nipoti. Le raccomandazioni quindi non bastano, secondo l'intervista Savino Cassese servono norme chiare e anche buon senso. Poi Covid, dieci errori commessi arrivate oltre 35 mila firme per l'operazione Verità, c'è il pressing sulla politica, l'iniziativa della fondazione Lettera 150, la decisione è anche quella del professore Galli, la petizione è a Conte e Speranza, il governo faccia adesso quello che non si è fatto prima, fino ad ora. Poi sulle carceri c'è il coronavirus anche dentro le carceri, operazione svuotacelle, allarme contagi, il PD, liberare più detenuti, ai dem non bastano i 3359 previsti nel decreto legge e ristori, puntano ad aggiungere 2000, il Ministero della Giustizia ora decida il Parlamento e c'è pressing anche sul garante. Poi c'è il caso dei bimbi con le emicranie, grazie ai mesi di lockdown, i loro sintomi sono migliorati, lo studio del bambino Gesù che stando a casa con i genitori cala lo stress della scuola, mentre il gesto di solidarietà Anna, 15 anni, down, la classe torna a scuola per farle compagnia, questa è una bellissima, è un bellissimo atto di solidarietà verso la compagna. Ancora negli Stati Uniti d'America niente per oglia alle elezioni, Biden batte Trump 306 al 232 mentre le reliquie di Papa Voetila venduta al mercato nero, il ladro incastrato dal video, Spoleto indagato un 59enne con precedenti analoghi nel contenitore il sangue del santo, un furto di oggetti sacri ogni tre giorni fatto Italia Vaticano per difendere le chiese. Intanto la mamma della Marini come dicevamo e la vediamo in questa immagine è stata truffata dal regista broker Giuseppe Mirazzo è sotto inchiesta ora per aver ottenuto dalla donna più di 330 mila euro c'è l'indagine a Roma insomma poi l'economia recovery fund il giornale europeo che tenta la stretta ma anche Varsavia minaccia il il veto vediamo se c'è qualche altro articolo da sottoporvi all'attenzione bene andiamo al giornale punto it e lasciamo il messaggero il giornale che apre con una chiesa piena di scandali ecco gli incubi di Papa Francesco dagli abusi ai minori alle coperture fino ai crack finanziari per molti la colpa è di Francesco ma c'è chi nega e il contrario qui vediamo il focus Papa Francesco oramai la chiesa sommersa dagli scandali e soprattutto quelli più gravi che non sono soltanto quelli economici ma quelli dell'abuso sui minori e poi le limitazioni per gli over 65 la Liguria lancia lo sconto tutte le regole fatte solo al mattino per gli over 65 la spesa mentre manovra c'è il testo arrivato un mese dopo tutte le nuove misure la Melonia sfalta zampa Natale i figli in balcone poi le letterine sul Natale a Conte come all'Albania il premier ti ha ricordato quelle al dittatore ancora trasmissione incontrollata ecco chi sono i morti covid e poi quelle quattro patrimoniali che svuotano le tasche ecco cosa accadrà poi c'è il caso San Marino locali pieni di notte mentre De Luca ha pensato soltanto alla sua campagna elettorale secondo le immagini che abbiamo visto anche girare sul video nel quale viene ripreso un uomo che poi muore trovato morto dentro un bagno ancora l'esercito che ora in prima linea nasce la trincea anti-covid poi il segreto che fa tacere tutti perché non si parla più di mess poi quattro sintomi spia del covid che andiamo invece ad approfondire se riusciamo eccoli qua i sintomi del covid ecco come riportato dal messaggero diversi pazienti si sono manifestati dolore allo stomaco subito prima degli antisintomi più comuni al virus in uno studio pubblicato dall'American Journal si legge che il covid potrebbe causare anche dei problemi digestivi importanti la ricerca ha interessato 204 pazienti in Cina e ha rilevato che il 48,5 di loro la prima volta che sono stati ricoverati aveva problemi quasi quali il vomito il dolore addominale e anche la diarrea quindi questi sono sintomi per capire che uno è affetto da coronavirus torniamo alla gazzetta del sud andiamo a vedere la sanità allo sfascio rompono le procure ora c'è Gratteri che sta indagando a Catanzaro speriamo bene insomma anche perché Gratteri non perdona i blizzi compiti dai carabinieri nelle aspeglie gli ospedali la seguono le denunce presentate anche dai sindacati la magistratura di Cosenza vuole fare luce sulle cause che hanno portato alla morte di decine di pazienti mancata a stazione dei pericoli il PM di Catanzaro aprono un fascicolo per l'epidemia colposa e cresce il numero dei decessi nella regione a momento di problemi legati anche all'esecuzione dei test rapidi intanto i tre segretari di CGL Cicinoville sono stati ascoltati da procuratore Gratteri e dai suoi collaboratori rivediamo la triade sindacale segretario di Tommaso Russo Angelo Sposato e Santo Piondo all'uscita proprio ieri dalla procura di Catanzaro poi a Reggio di Calabria la regione che accelera via libera ad altre 300 assunzioni con fortante frenata dei contagi ma salgono ricoveri e terapie intensive ci sono anche 8 vittime tra cui il medico di base di Catanzaro i contratti di collaborazione per 150 medici altrettanti infermieri i nuovi casi sono comunque 297 quindi l'infezione si diffonde addirittura pure nelle carceri positivi 2 detenuti 12 operatori andiamo a Spirly il presidente facente funzione della regione Calabria il quale ha detto ieri potrei chiudere le scuole ma l'hanno già fatto i sindaci la proposta dell'ASP di Reggio risale alcune settimane fa nel frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata avverto dice Spirly la preoccupazione se necessario non sarei così folle da non intervenire i comuni procedono in ordine sparso ieri l'annuncio del sindaco dello stretto di Messina cioè del sindaco Farco Vata sindaco della città di Leggio di Calabria attualità Antonella Polimene è stata eletta ieri ed è la prima donna chiamata a guidare la prima grande università europea a Redici di Locri la nuova rettrice della sapiente attualmente preside della facoltà di medicina ed ontogiatria succede a Cosentino Gaudio poi da dieci anni nell'UNESCO dietro a Mediterranea a Patrimonio da scopire sbarchino stop a Lampedusa una vara bianca per Yusuf Fodissea senza fine tra la seconda tra le sponde del canale di Sicilia intanto Festini nella Milano Pere c'è pressioni per ritrattare il rischio di inquinamento delle prove le testimoni confermano la presenza di Zorga nel party del 10 di ottobre ancora l'opinione no all'Italia hub dei grandestini e poi la proposta di Lella colpo il ministero pari opportunità diventi un ministero con portafoglie non un ministero vuoto ancora andiamo agli esteri Biden a quota 306 con Arizona e Georgia anche la Cina rompe il silenzio per formulare le sue congratulazioni al presidente eletto telefonata anche di Conte quindi perché perché le autorità sui presunti urori hanno dichiarato che non c'è nessuna prova e quindi è stata la più sicura elezione della storia quindi stappati cinque stati chiavi la Waterloo di Trump scriverà che ha detto anche nei suoi feudi repubblicani superati per il seggio al senato che fu di John McCain ancora in fondo alla pagina a Londra Boris Johnson perde altri pezzi ed ora vacilla si dimettono stratega e direttore della comunicazione del preve britannico un terremoto politico che aziera lo stato maggiore della campagna pro Brexit ed ancora venti di guerra soffrono sulla sala occidentale cassa tensione tra Marocca e Mauritania un cordone militare delle forze di Raba in zona vigilata dall'ONU poi Economia Mediaset l'Unione Europea valuterà la norma antiscalata scontro con Vivendi mentre Aspi crede nell'intesa col governo non ci sarà la revoca della concessione autostrada chiude i primi nove mesi in rosso la holding archivi nel periodo di settembre con una perdita di 718 milioni di euro poi l'appello di Landini della CGL durante il confronto di streaming con il premier il 2021 sia per creare lavoro non per licenziare adesso è il convento è il momento di Celandini segretario generale della CGL di cominciare a progettare il futuro bene andiamo lasciamo anche lo sport tutto andiamo direttamente alla pagina che interessa la Calabria continuiamo con l'informazione centro-sinistra che chiede a boccia di impugnare gli atti approvati dopo l'ultima seduta di consiglio regionale nel mirino del gruppo di centro-sinistra in consiglio regionale è finita l'ultima seduta dell'assemblea secondo gli otto consiglieri il presidente Tallini è andato oltre e non si è limitato all'ordine del giorno previsto dallo statuto salvata solo la legge in materia di rappresentanze doppia preferenza di genere ed ancora il movimento 5 stelle mette a nudo i disastri della Calabria che sarebbero la depurazione al collasso interrogazione di Melicchio al ministero in primo piano la salute del fiume crati e le altre aree nella regione cioè è strano che un partito politico un movimento che sta al governo presenti le interrogazioni continui a presentare interrogazioni parlamentari che sono come mettere i pannicelli freddi quando uno ha caldo poi la andiamo alle carceri di Vimbo salvato racconti succedendo Domenico Montauro mentre a Crotone Murales di Rino Gaetano da il benvenuto gigantografia del cantautore montata sulla parete di un edificio all'ingresso della città di Crotone poi in quest'altra immagine vediamo Derao il processo Pollino che legge come accusa in quattro secoli di carcere a Reggio il gruppo 40 condanna 34 imputati ne assolve 8 con fiscati numerosi beni da cui un bar e un ristorante anche in Germania qui vediamo il procuratore della Repubblica Reggio Bombardieri il procuratore nazionale antimafia Giafiero Derao diverse le accuse dall'associazione mafiosa al narco traffico poi blogger prestato a sangue a cosenza arrestati gli aggressori provvedimenti restrittivi che si vede dalla mobila per ordine del procuratore distrittuale Nicola Gratteri sempre avanti sulla casetta Reggio di Calabria le lezioni comunali finiscono su striscia la notizia si ride per non piangere insomma le consultazioni regine dello scritto settembre conquistano la platea nazionale Ficarra punge i danneggiati sono gli anziani che non si sono potuti vendere dice il voto Davi dopo la testimonianza di Peppe Minella tutto diventa ancora più inquietante se davvero nei seggi sono stati piccoli killer delle schede tutto va riconsiderato e lo Stato deve comunque rispondere c'è una battaglia insomma questa secondo Davi di civiltà di comune faccia comunque chiarezza su cosa vuole fare della depurazione cambiamo argomento sindacati che chiedono risposte tempestive sul leader del passaggio dei lavoratori da Idroge Region a Castore a un anno dall'avvio dell'internalizzazione emergono nuove ancora incogliti e poi sanità acqua e rifiuti miti va all'attacco il movimento politico va in procura e accusa il primo cittadino Falcomata sul piano anti-covid chiamato in causa anche la regione invece Calabria poi sempre a legge impentito Maurizio Cortese si abbatte sulla cosca dei Serraino nelle prime dichiarazioni indica gli esponenti del clan di Sasperato in questa immagine vediamo la sinergia investigativa il colonnello dei carabinieri bombardieri il prestore Megale con Nino mai avuto a che fare non escludo fosse coinvolto conosco entrambi Russo Ciccio poi imputato in epilogo verbale illustrativo da redigere in sei mesi poi catturati pesci spada sotto misura in salvo per azione della guardia costiera 60 esemplare rimessi in mare 58 donati in beneficenza sequestrata la rete illegale qui vediamo la specie protetta vietata la cattura di pesce spada sotto misura andiamo ancora avanti la città una grande discarica sempre la regione di Calabria a cielo aperto rifiuti all'emergenza sanitaria si somma quella ambientale si può continuare a vivere così dovintieri quartieri sono inghiottiti dall'immondizia roghi continue strade oramai bloccate emergenza quindi l'emergenza ambiente e pandemia da coronavirus che rendono cupi i giorni di reggio di Calabria siamo al 14 di novembre e le promesse del sindaco Falcomatà di una riduzione dell'emergenza spazzatura entro la fine del mese d'ottobre si sono rivelate vane Falcomatà dice noi questa città la ripuliamo nonostante qualcuno remi contro e così insomma che viene ripulita la città guardate in che situazione si trova la città di reggio di Calabria tra roghi vediamo in questa immagine e rifiuti per strada guardate qui siamo a Rione Modena qui la strada è completamente piena stracolma di rifiuti c'è una grande discarica a cielo aperto qui c'è una stella nessuno passa a ritirare la spazzatura quindi degrado nelle foto le varie strade della città da Ventimela ad Arghillà fino a Ciccarello tutte sono sommesse dalla spazzatura che viene anche data alle fiamme mentre la discarica di Merecucca continua a rimanere se ancora chiusa bene andiamo ancora avanti sfogliamo assieme il giornale da Gazzetta del Sud troppi contagi scuole chiuse per 15 giorni ieri l'annunciata ordinanza regge da parte del sindaco Falcomatà conclusione della riunione della task force da lunedì aperti soltanto gli asili Falcomatà è scopelliti l'ASP ci ha fatto sapere che non riesce a continuare il tracciamento dei tamponi il paradosso è che il protocollo per rinduare i contagi negli istituti funziona troppo bene quindi il fallimento del sistema alta tensione con l'azienda sanitaria prima il cortocircuito comunicativo con il botto e risposta negli uffici di Ovediana non hanno gradito le accuse del comune e poi le regioni la regione che scrive all'USR lezioni in presenza per gli alunni disabili giungono segnalazioni dalle famiglie sulla mancata garantia di una effettiva inclusione poi proteggere la centralità del dialogo educativo la chiusura delle scuole è come un pezzo di vita che si interrompe ma anche se gli alunni appaiono un po' demotivati il processo di insegnamento e di apprendimento deve proseguire sui livelli elevati come i professori degli istituti superiore cittadini stanno vivendo il forzato ritorno alla didattica a distanza in questo articolo in questo approfondimento poi la scuola a distanza gli insegnanti quanti sono insomma le cifre e le difficoltà di questa didattica a distanza il covid poi si batte solo sul territorio il segretario regionale dell'Auro e EMAC traccia il quadro della situazione calabrese Miniti dice posti di reanimazione occupati al momento sono ben sotto del 30% Domenico Miniti che è presidente regionale dell'Aero e EMAC come difendere poi i diritti dei consumatori tra emergenze servizi interrotti e contenziosi responsabile regionale dell'UNC Saverio Cuoco fornisce accadimenti utili chi paga per avere un servizio che non riesce deve essere a ricevere deve essere rimborsato ed ancora la mobilitazione contro le red zone oggi alle 18.30 in piazza Calmi la manifestazione di protesta per chiedere di conoscere la verità e poi andiamo al Polistena 18 nuovi casi di coronavirus si pensa anche a un lockdown in totale le persone in quarantena a Polistena sono 165 numeri in aumento anche a Scilla destra al tappeto al poscolo anche di Bagnara sono rogata la chiusura delle scuole a Rizzicola a Cinque Frondi mentre oggi i primi pazienti 15 pazienti a Giove Tauro prosegue la protesta per il pericolo di smantellamento di Giovanni XXIII dopo la riconversione in centro di recenza il comune mette Palazzo Santi Poli a disposizione per i reparti da salvaguardare poi Porto ho chiesto lo screening dei lavoratori del Porto è la seconda volta che viene riportata questa richiesta dalla stampa mentre da a Rosarno la situazione fuori controllo secondo i primi cittadini i contagi sarebbero molto di più di 126 ufficiali quindi attenzione insomma anche ai dati se sono dati ancora freschi o sono dati già vecchi che fuzzano come il pesce marcio ancora il coronavirus la rabbia scende in piazza a Bovalino dove i commercianti le partite IVA sempre più sul piede di guerra oggi e domani ci procederà alla raccolta delle schede elettorale qui vediamo Francesco Cavallaro che dice stiamo pagando l'incompetenza degli altri poi ci sono i viaggi solo solo un ricordo calo dell'80% nelle agenzie anche nella Locri del settore in estrema difficoltà andati in fumo molti sforzi conchiuti nel 2020 poi a Roccella bonus spesa 9 su 10 ottenuti senza diritto c'è una raffica di sanzioni della finanza ad Africa i falsi percettori dovranno restituire quanto hanno incassato mentre a merito di portosalvo Altiverio Evoli chiude la riabilitazione cardiologica contagiati medico e tre infermieri nel reparto alcuni giorni erano già stati bloccati ricovere visite ambulatoriali con un medico e tre infermieri contagiati il reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale Tiberio Evoli di merito di portosalvo ha dovuto fermarsi la chiusura è scattata al momento in cui è saltata fuori la positività del camice bianco vista la situazione a stretto giro di posta tutto il personale del servizio è stato sottoposto a tampone non sono mancate le sorprese anche due infermieri sono risultati positivi come imposto dalla prassi sia tre contagiati sia il resto dei medici infermieri e inservienti che con loro avevano avuto contatto sono stati posti in quarantena fortunatamente nel reparto a causa dell'intensificarsi della seconda ondata della pandemia erano stati bloccati ricoveri e visite a muleteriali a metà della prossima settimana ci saranno i tamponi di controllo ovviamente qualora i soggetti interessati dovessero negativizzarsi il reparto potrebbe ritornare in attività nel frattempo sono in corso le operazioni di sanificazione visto il numero dei contagi che saranno ora minuziosi anche in controllo e poi ancora a Marina di Gioiosa un colpo ferale all'economia è covitato per Marina di Gioiosa contestata a Zeona Rossa Agostino sembra che ad oggi le limitazioni non abbiano sortito alcun effetto e spostiamoci ancora andiamo nella piana di Gioetauro ospedale della piana cinque anni per l'attivazione secondo la Prosalus ci vorranno 12 mesi solo per eliminare l'interferenza con la rete elettrica nel cantiere l'associazione modificare la convenzione prevedendo tempi almeno dimezzati poi a palmi trimboli inconcepibili rinunciare all'usca Villa San Giovanni mascheratura della variante iniziati i lavori propedeutici previsti il restyling della di Amelida qui vediamo il cantiere aperto mentre Villa San Giovanni Siclari e la coalizione sfogliano la Margherita il primo cittadino indeciso se assegnare le dimissioni oppure attendere il processo fu a Santofemia Naspromonte invece ai comuni sia di Santofemia che di Sinopoli assegnati i fondi per le opere pubbliche sono complessivamente 800 mila euro della nuova tranche di finanziamento a Bagnara Calabria martedì riaprerà anche il mercato ma solo per i prodotti di genere alimentari così come si sta svolgendo in altri territori in altri paesi alla regione di Borrello nella Tirrenica spazio verde parcheggia al posto del mostro mentre ha restato domenica e bollocco era latitante da un anno un'operazione congiunta dei carabinieri e guardia di finanza l'esponente di spicco del clan di Rosanno si trovava nel Vibonese ancora giove Tauro scade la concessione dell'OIAM gestione del depuratore lavoratori sono in apprezzione nel mega impianto di contrattare la mia non tornano i conti e figuriamoci a Taranoma consegnati 34 tablet agli alunni dell'istituto comprensivo Monteleone Pascoli e a Rosanno un nuovo riconoscimento per la preside russo ancora andiamo qui vediamo il Vescovo la solidarietà sia più forte del virus il Vescovo tendiamo tutti la mano una mobilitazione della diocesi di Rocchi gerace per la quarta giornata mondiale dei poveri in prima linea il Vescovo Oriva e Don Elangui direttore della Caritas di Oce Sana appello ai fedeli non restiamo indifferenti alle grida di aiuto domenica domenica la Caritas un pranzo da asporto per le persone bisognose un'iniziativa voluta dal Papa poi con l'ambulatorio salvo iniziati ieri i lavori la scelta dell'aspo di Palizzi la struttura dovrebbe ospitare le unità speciali di continuità assistenziale poi c'è l'iniziativa Montabello Ionico solidarietà e sicurezza con i volontari formati in percorso gratuito della cooperativa Progetto 102 ed ancora Carmelo Minniti più votato nel direttivo dell'associazione un meritese alla guida degli ingegneri clinici dirigente dell'ASP tra i protagonisti del congresso nazionale un meritese nel nuovo direttivo dell'associazione italiana degli ingegneri clinici tra tutti i neuletti Carmelo Minniti è stato il più votato in assoluto la sua elezione è venuta in calcio all'assemblea dei soci convocata all'interno del ventesimo convegno nazionale in corso di svolgimento in modalità remoto nell'organismo da cui presidente è stata affidata a Umberto Nocco direttore della struttura complessa di ingegneria clinica dell'azienda socio-sanitaria territoriale di Sette Laghi di Varese il tecnico originale di merito posto salve è entrato come componente dell'area pubblica proprio a quest'anno Minniti è dirigente da quest'anno ingegnere clinico presso l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria a livello associativo vanta diverse soddisfazioni ottenute come riconoscimento per le sue doti professionali ma soprattutto relazionali l'ultima in ordine di tempo lo ha visto ricoprire la carica di copresidente del comitato cui era stata affidata l'organizzazione del diciannovesimo convegno nazionale svolto a Catanzaro nel 2019 il consiglio direttivo che tra l'altro dovrà occuparsi di redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati nonché di curare l'esecuzione dell'assemblea del liberale in merito ad attività di ordinaria amministrazione resta in carica fino al 2023 Minniti ha colto il risultato con soddisfazioni ricarando ringrazio i colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia ne sono comunque lusingato continuerò a lavorare con il solito entusiasmo per la crescita dell'associazione da quando sono entrato ha commentato il mio obiettivo è sempre stato di avvicinare quanto più colleghi possibili all'associazione cercando di favorire la partecipazione attiva e la condivisione delle esperienze e delle conoscenze complimenti a Carmelo Minniti per i risultati che sta raggiungendo ancora sulla ionica da platia Roma processo per droga avvia l'udienza preliminare scaturita dalla operazione Coffben nel sodalizio criminale avrebbero fatto parte i fratelli Marando e Perre a Locri mancano attrezzature e la sanità l'ospedale oncologia in ginocchio pronta una petizione a sostegno delle parti le difficoltà dopo il trasferimento da Siderno e poi sempre a Locri alta tensione in ospedale niente ferie al personale will circolare da revocare si muore un provvedimento di netta discordanza con le disposizioni governative e sin da caso contesta il provvedimento dell'aspetto solleva dubbi di carattere anche amministrativo qui vediamo l'ospedale di Locri l'ospedale Spocca a Siderno uno slalom tra i rifiuti e poi il liceo Mazzone si conferma al top monitoraggio di eduscopio poi passiamo prima di chiudere anche a Dagospia qui vediamo un uomo molesto che almeno dal 2014 che Alberto Genovese organizza festini sregolati racconta racconta i suoi ex vicini la ragazza era allestita come una succursale di vizza idromassaggio ragazze a volontà nelle sere di festa si impadroniva dello stabile metteva il suo buttafuori davanti al portone e se qualcuno stava protestare per la musica arrivavano le minacce e gli insulti inquirino per aver chiesto di abbassare i decibel venne preso a sberle poi ora di mai chiederà le dimissioni di Patonelli gli incontri segreti tra il ministro dello sviluppo e l'ex AD di autostrade Castellucci sono l'ultimo scandalo nel Movimento 5 Stelle poi ci mancava solo la domenica ecologica la raggi fa incazzare i commercianti la sindaca apre i barchi nelle zone a traffico limitato fino al 3 di dicembre ma scoppia la polemica il campidoglio di provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell'emergenza sanitaria a questo si aggiunge la domenica ecologica indetta per il 15 dicembre un colpo di grazia per gli esercizi commerciali ancora scusi strisciante infierisce sui 10 secondi di imbarazzo totale dell'inviato del TG1 a Washington Claudio Pagliara andate in onda sul TG della rete Ammiraglia di Viale Mazzini il giornalista parla del Michigan e si incarta in modo clamoroso il RR e la sua compagna perfetto chiusando dallo studio voi non uscite dalle vostre case tra i nuovi divieti locali a Roma sono stati pianificati annunci con il megafono da parte dei vigili a sentinelle per evitare gli assembramenti ingressi scaglionati nelle piazze e sui lungomare vietati tutti i mercatini cosa accade per le scuole il fumo e strada i negozi a Verona e Pesaro scatta il senso unico nelle vie pedonali poi vediamo un attimo la pagina politica sempre su Dago Spia qui vediamo i due Trump e Biden vinto Biden negli Stati Uniti d'America ed ancora qui a forza di pensare a Brogli si dimentica il Covid e qui vediamo Di Maio più che Di Maio questa volta il ministro delle finanze con il primer impantanati veramente impantanati poi De Luca accetti umilmente gli aiuti del governo a pagare che gli errori commessi sono i campani Di Maio replica piccato al governatore che lo aveva definito sciacallo aspettano sicuramente a De Luca le responsabilità di avere male governato la sanità campana negli ultimi anni il video show di De Luca poi il giramento di Meloni la leader di Fratelli d'Italia che demolisce la proposta di Sandra Zampa sul Natale secondo il governo una famiglia con due o più figli non può fare la cena di Natale un figlio a tavola e gli altri chiusi in balcone la nonna invece deve essere cacciata di casa questo è il Natale che ci aspetta insomma secondo questi cervelloni questi scienziati che abbiamo al governo quindi un figlio dentro e l'altro nel balcone la nonna la mettiamo anche nel balcone i ripoti li mandiamo magari nei giardinetti bene li vediamo nei giardinetti con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi ripetiamo sabato 14 di novembre 2020 vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a domani per la consueta rassegna stampa quotidiana arrivederci grazie a tutti